Siamo con il dottor Ugo Cioffi, professore universitario con cui andiamo ad aprire un ampio dibattito su problemi universitari, su problemi della medicina universitaria e soprattutto sulla medicina in generale. Il dottor Ugo Cioffi, nonché professore, ha superato brillantemente l'esame di abilitazione alle funzioni di professore universitario in chirurgia generale, classificandosi tra i primi nell'otto dei candidati. La prima domanda è che effetto le fa aver superato brillantemente questo esame? Sicuramente è un'enorme soddisfazione, anche per il fatto che ho superato due settori concorsuali, ordinari in chirurgia generale associato in chirurgia toracica, perché sono stati sdoppiati, la toracica va con la cardio-toraco-vascolare e soprattutto perché per la prima volta l'abilitazione viene conseguita tenendo conto di mediane internazionali quali l'H-Index, il numero di citazioni diviso per anni e il numero di pubblicazioni indicizzate. Professore, lei ha presentato un curriculum eccezionale, con 175 pubblicazioni e quelle esaminate a giudizio della Commissione affrontano tematiche cliniche transazionali sulla chirurgia gastroenterologica, raggiungendo il pieno conseguimento degli indici biomimetici previsti dal concorso. Quanta fatica le costa tutto ciò? Allora, questa è una fatica ultraventennale. La mia prima pubblicazione importante è stata fatta nel 1990 con l'equipe del professor Pezzuolo e il professor Piero Zannini sul trapianto di polmone sinistra. Noi a Milano siamo stati i primi a impiantare un polmone sinistro dopo Mario Viganò che fece il trapianto bilaterale. E' ovvio che da allora poi abbiamo presentato vari progetti di ricerca da cui sono seguiti poi dei lavori scientifici clinico-traslazionali perché vedete la ricerca clinico-traslazionale è quella che ha più importanza per il paziente in quanto è una ricerca applicata direttamente sul malato e non una ricerca empirica senza nessuno svolto per la salute del paziente. Professore, tutto ciò è venuto a coronamento della sua prestigiosa carriera. Ricordiamo che lei ha avuto il massimo alla Federico II sia nell'esperizzazione che nella laurea normale. Quanto è influita la sua esperienza sul territorio americano? Tantissimo. Io sono stato all'Albert Einstein College of Medicine con il professor Donato Sisto nel dipartimento cardiotoracico proprio quando il professor Sisto aveva inventato per la prima volta la trasposizione valvolare mitrale aortica, quella che è stata poi eseguita sul giocatore dell'Inter Canu. Poi ho passato tanti mesi anche a Albany Medical College con il professor James David Conti che è di origini italiane e quindi ha influito tanto l'esperienza americana. Lei ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, fra questo il Premio Ippocrate, ma in tutto questo come è arrivato a tali livelli? A tali livelli ci si arriva in quanto nel mondo viene molto riconosciuta la ricerca, l'importanza della ricerca, il fatto di pubblicare su riviste ad elevato impact factor e poi man mano entri negli editori al board di riviste, inizi a fare il review di riviste importanti e alla fine c'è il riconoscimento. Chiudiamo questa breve chiacchierata, professore, con qualcosa di nostro, di nostrano. Lei è un cervinarese doc, un cervinarese di cui andiamo fieri ed orgogliosi. Di questo paese cosa ha nel cuore e cosa vorrebbe avere nel futuro? Tutto. Io vorrei che Cervinare fosse il paese più bello del mondo. Già lo è per me, ma vorrei che obiettivamente lo fosse per tutti. Auguro al paese e a tutti i miei concittadini la fortuna migliore, soprattutto per l'anno 2014. Noi auguriamo a lei tanti traguardi prestigiosi, soprattutto grazie per questa breve chiacchierata con noi. Grazie. Grazie.